Allora sono qua con la normativa ISO 4156-1 del 2021 dunque molto recente sui profili scanalati con fianchi ed evolvente e questo è il disegno della dentiera a base dunque abbiamo che sul numero 1 è l'interna spline profilo diciamo labba il mozzo ok poi abbiamo la 5 è l'externa spline dunque l'albero scanalato naturalmente questa è la dentiera ok è interessante poi indicare che il punto 2 quello del lab del mozzo si chiama altezza dello spazio maggiore ma major space 8 ok naturalmente il 4 questa linea qua che si vede qui ok e rappresenta la linea primitiva ok e dunque questo qua è 2 l'altezza tra qui diciamo tra la linea minore ok e il primitivo se noi invece guardiamo il maschio abbiamo che il corrispondente è il 7 ed il 7 vediamo è l'altezza del minore dente altezza qualcosa del genere si potrebbe dire comunque alla fine è la distanza tra il primitivo e la linea se fosse un cilindro sarebbe il diametro di fondo ok diciamo tra il fondo e la linea primitiva il 7 ok e dunque sarebbe come il dedendum il 7 il dedendum mentre il 3 è l'addendum fondamentalmente e viene chiamato major truth 8 3 ok l'altra considerazione è il 6 che è l'altezza formative 8 e dunque è l'altezza dal dal dalla fine del raccordo qfe ok qfe è il raccordo dell'albero mentre qfe external qfe e internal ok e dunque anche interessante questa altezza di forma ok dunque altezza del dente di forma altezza del dente di minore e questa altezza del dente maggiore maggiore altezza maggiore del dente comunque addendo un dedendo si potrebbe vederlo anche in questo e naturalmente con questa cosa più interessante nel senso di forma il 6 se fosse circolare alla fine questo sarebbe il diametro di testa nel diametro di fondo e qua il diametro di forma ok da qui in giù ok dal centro ok va beh altra cosa l'alfa l'angolo di pressione normale poi questo qua è diciamo il passo m per h modulo per h e cf clearance forma cioè che è uguale da qui a qui la distanza tra diciamo la fine del raccordo e la testa sia quella interna che quella esterna qua nella normativa poi ci sono i valori e dunque questi qua corrispondono ognuno di questi ha i valori a seconda dell'angolo di pressione abbiamo tre in realtà quattro casi ma con tre angoli di pressione dunque abbiamo il 30 gradi con un angolo di pressione 30 gradi dove abbiamo flat root e filet root e probabilmente si fanno riferimento che questo il flat root a radice piatta ma in realtà il v3 gs piccolino 0,2 per il modulo mentre il filetto root e al doppio 0,4 per il modulo ok e poi abbiamo 37,5 gradi e 45 gradi e interessante naturalmente tutte queste grandezze fanno riferimento al modulo per esempio non so il root radius ok il raggio dell'interno dell'interno facciamo dall'esterno root radius fe dall'external abbiamo che nel caso 30 gradi flat root e 0,2 il modulo filet root sempre 30 gradi di pressione 0,4 il modulo mentre 37,5 e 0,3 modulo di mezzo tra qui e qui mentre 45 gradi e 0,25 il modulo e così via dunque 1 attraverso questa tabella può benissimo disegnarsi la dentiera riferita al modulo ogni modulo la dentiera completa le due dentiere possiamo dire fondamentalmente perché 2 è il major space 8 maggio space 8 mentre questo è il 7 minore tooth 8 ok il 27 minore tooth 8 questo questo qui è uguale questo uguale questo uguale no e alla fine alla fine sono uguali perché comunque abbiamo visto che il minore tooth 8 è uguale al major space 8 0,75 0,75 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 dunque fondamentalmente potrei costruirne una sola sola questa e poi specchiarla rispetto alla linea di alla linea di primitiva e poi spostarmela di 0,5 per mh in pratica un mezzo se la specchio si 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 traslarla si può tranquillamente fare dunque quello lì praticamente mi basta disegnare solo uno vabbè spero di essere stato utile è una cosa interessante e dunque io posso andarmi a calcolare la dentiera del basi in rack del del profilo scatenato vabbè spero di essere stato utile ad evolvente perché questa è la normativa iso 4156 trattino 1 ci vediamo alla prossima arrivederci